Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui con voi, come avrete letto dal titolo, per vedere il Pixie Mag numero 10. Allora, questi Pixie Mag, se vi ricordate, questo in particolare, l'abbiamo trovato in un video haul. Quindi ve lo lascio qua, il video haul, così chi non l'ha visto può recuperarlo. C'erano anche altre cose, quindi erano quasi tutto a tema Winx, se non ricordo, quindi andate a vederlo. Nel caso, no niente, scusate, oggi vediamo lui. Allora, questo qua è il numero 10 ed è uscito a febbraio 2008. Qui scrivono periodicità mensile. L'unica cosa che mi fa sorridere è che, nonostante sei di febbraio, dentro ci sono le uova di Pasqua. Quindi, boh, vi fa un po' ridere questa cosa. Non ricordo nemmeno più o meno in che periodo uscivano, però al centro sicuramente c'è scritto. Magari lo vediamo dopo, però sono quasi sicura che ci sia scritto attorno al 21 uscivano, attorno al 20. Quindi una settimana circa dopo il Winx Magazine, dieci giorni dopo. E ci dice anche che cosa c'era nel magazine successivo, perché chiaramente prima lo dicevano. In alcuni sì, in alcuni no, come abbiamo visto anche nei Winx Magazine. Non sempre veniva specificato che cosa c'era nel magazine dopo. In alcuni sì, in questo in particolare sì. Allora, come avrete notato, questi qui costavano 4,90 euro. Perché c'è scritto qua. E ora giro la telecamera e lo vediamo meglio. L'unica cosa che vi dico è di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un like al video. E in più, ditemi se vi piace questa serie di Pixie Magazine. Io le sto registrando, oggi ne registro queste e altre due. Perché così, insomma, ce li ho e poi ve li metto con calma. Perché, insomma, questi ne esce più o meno un al mese. E quindi lasciamo questa cosa. Escono a fine mese questi. Quindi questo qui esce a fine febbraio, gli altri due escono più avanti. E niente. E questi qua, come vi ho detto, ne ho 11 se non li ho contati male. E quindi ne uscirà uno fino a novembre. A novembre, se non ne trovo altri, sarà l'ultimo. Quindi ci accompagnerà per tutto, insomma, il 2023. Allora, detto questo, giro la telecamera e lo vediamo meglio. Allora, ho girato la telecamera e lo vediamo meglio. Allora, in copertina abbiamo Chatta e Piff dentro... Piff dentro un lago di Pasqua, Chatta che probabilmente è fuori che li scarta. E niente, questi qua, come vi dicevo, hanno la particolarità di essere, praticamente, di avere la costoletta, ecco, insomma. Con la scritta sempre, i fumetti, i giochi, fai date di novità e racconti. Questo fino a un certo numero. Il numero preciso non me lo ricordo, però so che dopo un certo numero mio non li hanno più. Quindi questa cosa non è rimasta costante, ecco, per tutti i Pixie Magazine è stata poi cambiata. Allora, apriamolo e vediamolo meglio. Allora, subito troviamo la pubblicità della serie di DVD della terza stagione di Winx. Ci diceva che erano 10 DVD e che si potevano trovare nell'edicolo ogni mese, con tanti episodi e contenuti extra. Allora, questa qui, se avete visto il video dei... Dove vi faccio vedere le VHS e DVD di Winx, sapete che questa non ce l'ho. Comunque, vi lascio lì il video qua, così se volete recuperarlo, vedete che DVD ho e anche le VHS di Winx. Allora, poi troviamo chiaramente la nostra introduzione, qui ci dice che è di febbraio, ma ve l'ho detto prima. E poi troviamo Ninfea, con questo qua che all'inizio, nella seconda stagione, si chiamava L'albero della vita. Poi non so se dopo ha cambiato nome, perché poi dopo L'albero della vita è diventato qualcosa di diverso. Quindi, non lo so, ha avuto tante accezioni, non so come lo chiamate voi adesso, però io lo chiamo ancora così. Poi, abbiamo la pubblicità del Crea la Moda di Winx e il sommario, o glossario, come volete chiamarlo. Allora, ci dice che cosa troviamo dentro il magazine, e qui ci dice anche che dentro il magazine abbiamo, come si dice, la spiegazione di chi è Flowers. Che sarebbe questa fatina che vediamo qui, e ci spiega meglio chi è lei. E poi abbiamo il film, perché questo qui era poco che era uscito Il Segreto del Regno Perduto. Gioca con lo cat, tune e bloom, entra in un mondo in 3D, a pagina 28. Ok, poi ci dice anche come fare delle uova di Pasqua. Allora, andiamo avanti e troviamo la rubrica I Segreti del Cuore. Questa qui la ritroviamo anche più avanti, negli altri magazine, e qui troviamo Pasqua a sorpresa. Vuoi fare un piccolo regale a te amici? Regala un uovo a sorpresa, quindi un uovo con dentro praticamente una sorpresa. E qui ci spiega come farlo, ci parla un po' dei fiori, e poi ci parla di come fare un bicchiere fiorito, con dei bulbi, una patata, penso di sì, qualcosa di simile. No, compra un bulbo di Narciso e di Tulipano. Qui insomma, qualcosa di fiorito, quindi diventa proprio bello. Poi troviamo Ecco Flowers. Allora, carta di identità, e qui infatti troviamo sia lei, che ci dice che è la fata dei fiori, la fatina, la pixie dei fiori, la fata dei fiori è flora per me. Comunque, insomma, la, diciamo la pixie dei fiori. Poteri, riconosce alla perfezione il profumo di tutti i fiori. Ok, va bene. Magia, riesce a combinare i suoi poteri magici e ci spiega bene che cosa fa. Curiosità, il suo carattere è legato ai fiori, perché a seconda dell'umore cambia il profumo. Quando è romantica, profuma di rosa, se invece è sognante di violetta. A primavera, profuma di glicine ed estate di lavanda. A volte puoi sentirla passare accanto a te, anche se non la vedi. Questa è una suggestione molto carina, anche per i bimbi, molto carina. Poi, le caratteristiche. Ve le racconta Zing, ora io non le leggo, però, insomma, sappiate che qua, se riuscite a leggerlo, potete leggere tutta la descrizione, mettendo pausa. Poi, segretissimo che abbiamo il labirinto, e che troviamo che i fiori fantastici ci sono a Sella Fosca. Tra tutti questi, solo due sono perfettamente uguali, ok? Poi troviamo la pubblicità del DVD, di Il Segreto e il Regno Perduto. Io questo, raga, non ce l'ho al DVD. No, l'ho in un'altra versione, ma non l'ho in DVD. E poi ho Pixi a Carnevale, ogni scherzo vale. Infatti, c'è scherzo di febbraio, molto più concentrato al Carnevale, secondo me, che alla Pasqua. Però, vabbè, è l'idea mia. Qui ci parla del fumetto, che si chiama proprio a Carnevale ogni scherzo vale. Ora, io lo scorro velocemente, non ve lo sto a spiegare. Lo scorre e basta. Anche perché, insomma, è un po' lungo, come vedete. Cioè, non sono i classici fumetti di Winx, che durano due pagine. Questo è veramente lungo. Non ho contato le pagine, ma vi assicuro che sono tante. E poi finisce. Dopo abbiamo la Casa dei Giochi, dove abbiamo Kiko. Aiutalo tu a trovare due uova uguali. Ok, anche questo qui è il solito gioco. Poi, le ricette fatate. Qui abbiamo la rubrica dove abbiamo lo cat e ci parla di alcuni dolci. Uovo bebè, antiposta mimosa, dolce crema. Imparerei a preparare una facilissima crema all'uovo sbattuto. Più semplice non si può. Carina come idea, sinceramente, visto che lo cat comunque la associamo spesso ai dolci, un po' come facciamo per Bloom, mi piace tantissimo quest'idea. Quindi, che ci sia questa rubrica. Poi, qui troviamo Games. E questo qui è pagina 28, quella che ci veniva raccontata nel sommario. Continuiamo le emozioni del film, se chiedere unio perduto. Giochiamo con le Winx, che dobbiamo trovare le differenze allo specchio, penso. Esatto, ci sono otto differenze nell'immagine specchiata, bisogna trovarle. Poi, al centro della torre è rimasta lo cat chiusa. Dobbiamo riuscire a farla uscire per farla arrivare da Bloom. E qui ci riceverò insieme una loquette e Bloom possono riabbracciarsi. Vabbè, chiaro, presuppone che non l'abbia fatto il gioco. Poi, qui abbiamo un altro micro, diciamo, fumetto. Sono difficile. Questo qui dura veramente due pagine, perché vedete che qui è già finito. Quindi, è una cosa molto molto carina. E poi il concorso, c'era un concorso a cui si poteva partecipare. E ci viene spiegato qui. Forma il tuo Wings Club e vola sul palcoscenico. Il Wings Club Party. Ci spiega come partecipare al concorso. E poi siamo a metà, perché a metà qui, io non ricordo se c'era il poster, però non mi sembra. Mi ricordo semplicemente che c'era questo proprio calendario patato. Questo qui è il mese di marzo, quindi il mese successivo a questo magazine. E ci parla, perché chiaramente uscendo il 20, ci parla del mese successivo. Ci parla che usciva il primo del mese il DVD. Quindi, qui il DVD del 6esero ne ho perduto. Qui il Wings Magazine. Qui Puzzle & Test, perché usciva anche questa tipologia qua, che era bellissima, di, appunto, rivista. Poi troviamo lo Stick & Fun, che non ho mai proprio amato. E poi il Pixie Mag con la borsetta tra colla e regalo con sopra amore. E poi usciva anche l'unica allo Giorgio da polso di Wings. Questi qui ne ho qualcuno. Non so se proprio di questa mandata, ma qualcuno lo avevo. E qui ci dice anche che con il magazine 48 il cuore per la cameretta c'era insieme. Quindi molto carino. Ci dice anche proprio che cosa usciva di Gadget. Poi troviamo un'altra pubblicità. Qui invece ci parla, sì, sempre del Zeghetto Erroneo Perduto, ma del CD musicale dei film. Questo qui, la corona suonale del film, secondo me è pazzesca. Cioè, l'adoro. E quindi, questo qua, la trovate anche su YouTube, se non erro. C'è proprio una specie di playlist con tutte le canzoni del film. Quindi, secondo me, vale la pena se magari non volete comprare il DVD, perché è difficile da reperire ormai. Anche se qualcosa si trova, penso che anche su Vinted qualcosa ci sia. Secondo me potete comunque ascoltarla gratis, diciamo, su YouTube. Poi abbiamo La Casa dei Giochi, dove troviamo Glim, che è bellissima. Da quale delle tre uova è uscito questo simpatico bolcino. Prendiamo il filo che esce di qui e scopriamo a quale uova appartiene. Poi abbiamo un mondo matto, e qui parla chatta, notizie, indovinelle, foglie dal mondo. Foglie d'amore, biglietti d'aguri per fido, il mosaico di disegni, perché mai il testo è passeggero. E poi c'è il mondo record, ci parla del sandwich più grande del mondo. Un uvetto smaltato dalla Cina, e il panda, oltre che essere ecologico, è anche portafortuna. Per un regalo pasquale speciale, ci dice che ci sono questi uovetti fatti a panda, un euro, bellissimo. Science test, qual è l'animale più grande del mondo? L'elefanto africano, la balenottera azzurra, rinoceronte. Io penso che sia la balenottera azzurra. Però andiamo avanti. Poi abbiamo la casa dei giochi, e qui troviamo Livi, quindi in questa rubrica non mi ricordo se c'era sempre Livi, però oggi troviamo Livi. E ci parla dell'isola di Pasqua, e quindi qui dobbiamo trovare il naso giusto. Tra queste sei forze a riconoscere quella che ritrae proprio il Moai, qui a sinistra. E qui ci dice ancora di trovare le otto differenze allo specchio. E qua, quale di queste quattro bandiere è quella dell'isola di Pasqua. Ci chiede di indominare quale. Ok. Potremmo anche qui un fumettino leggero, piccolino, di due pagine, quindi lo spaventapasseri. Anche qui se riuscite provate a leggerlo. E poi troviamo Magiche Scoperte, Tecnologia Internet, Giochi di Prestigio. Qui abbiamo la rubrica di cui ci parla Digit. Quindi abbiamo... Siamo a Sanremo. Ok, il 25 febbraio 2008, il 52 di una festa del Val della Canzella Italiana, ha inizio. E tu? Quindi qui ci parla un po' del festival. Poi ci dice Bicchiere Magico. E questo non so che cosa fa alla fine. Comunque se volete leggerlo, riuscirete a leggerlo sicuramente. Perché mi sembra che si legga. Dalla camera. E poi... Questo qua non so che cosa sia. A volte nemmeno vedere tanto in grande è sempre d'aiuto. Si riconosce... Sa riconoscere a che cosa appartiene a questo dettaglio? Forse il merlo del castello, se non lo sai, vai a pagina 64 e lo scoprirai. Ok. E sai capire questa frase? In cui mancano solo le vocali. Molto interessante. Allora, queste cose qui sono molto carine. Questo qui possiamo provare a leggerlo. E questo qui dobbiamo riuscire a capire a che cosa appartiene questo dettaglio. Magari in fondo poi dopo lo scopriamo. E poi troviamo questa parte qua. Allora, questa parte qua è una specie di fumetto, ma narrato. Nel senso che c'è la narrazione sotto ogni illustrazione. E è comunque una storia. Questa parte qua è molto carina. Questa qui addirittura continua nel magazine dopo. Che lo vediamo il prossimo mese. Anche qua, se riuscite a leggerla, provate a mettere pausa e a leggerla. È scritta un filino più piccola del fumetto, però dovrete riuscire a leggerla. Poi abbiamo Sogni d'Oro e qui ci parla dei pulcini. Vabbè, è una rubrica un po' così. Anche questa, se volete, provate a leggerla dove troviamo PIF. Tra l'altro è bellissima questa rubrica per i bimbi. C'era una volta. Allora, questa qua è una cosa che mi piace da impazzire. Hanno aggiunto, non mi ricordo da quale magazine, praticamente la storia, diciamo, delle storie conosciute. Nel senso che qui abbiamo il tappeto meraviglioso. Ma sono storie comunque che vengono dal mondo. E sono storie che alcuni conoscono, altri no. Però sono cose veramente molto carine da aggiungere, secondo me. E dura ben tre pagine, quindi anche qua, se volete leggerla, provateci. La casa dei giochi, qui troviamo queste quattro... Ci sono quattro differenze dalla scena A, nella B e nella C e nella D. Bisogna trovarle. Anche qua è un trovare differenze, qui ce ne sono veramente tanti. E poi abbiamo Dolce Amiche, Buone Maniere e Consigli d'Amicizia. Il Cuore in Vista, Bonton. Ecco, quale trucco per difendersi dai curiosi? Vabbè, ok. Oppure vai al 22 marzo e troverai una cosa importante. Vabbè, ok. Vi è stato assolutamente leggero? Ok, ci dici là dei consigli su come non farci spiare il diario. E qua troviamo una cosa bellissima. Allora, una borsa che chiama col tuo umore... Che cambia col tuo umore. E' la cosa più indie questa primavera. Allora, qui ci mette praticamente degli adesivi e delle cose a tema pixie. Troppo carine. Cioè, stupende. Ci dice come fare questa borsetta particolare. Quindi, qui ci sono delle cose dentro a tema pixie, ma si possono fare anche con altre cose dentro. Penso, perché qui ci fa vedere come si inseriscono. E questo è un po' un file da te, se vogliamo, ecco. La borsa trasparente. Poi qui abbiamo la casa dei giochi. Anche qua non trovate differenze. Sono dieci. E poi abbiamo Magia in cucina, dove abbiamo lo cat e le pixie, che mangiano qualcosa di probabilmente andata male. Ma dura solamente una pagina, quindi è molto corto. Poi abbiamo C'è a posta per te, quindi la rubrica di Livi. Per eccellenza, secondo me. Abbiamo una poesia per lo cat. E poi abbiamo tutti i disegni che sono stati mandati. E adoro queste rubriche. Qua poi guardate quanto sono grandi. Qui abbiamo addirittura un qualcosa da colorare. Che abbiamo Digit e Piff da colorare, che adoro. Cioè, è stupendo. Abbiamo le soluzioni dei giochi. Quindi tutte le soluzioni. E poi abbiamo chiaramente Livi da colorare. Guardate quante sono carine queste pixie. Stupende. In fondo ci dice, ci dà qualche anticipazione sul prossimo magazine. Quindi ci dice che ci parla del Koala. La romantica fiaba di Concordia. Che vi porta in Albania. Oppure ci dice che cosa troviamo. La borsetta tracolla. E poi alla fine ci dice che ci sono i novissimi adesivi di Wings. Con tanti, sono tanti, sono i novissimi e tutti diversi. Questi qua qualcuno ne avevo però, raga. Con il tempo poi, chissà che fine hanno fatto. Non li ho più trovati. Però li avevo attaccati. Quindi ci sta anche. Allora. Porta la maschera sul volto di Bloom. E senti la magia, la magica melodia. Questa qua è una versione di Bloom. Che è stata fatta per il segreto del regno perduto. Quindi è Bloom Enchantix. Che si può mettere sul viso una maschera di Daphne. Per combattere le stregantenate, chiaramente. E è veramente carino. Perché se non mi ricordo male, proprio Bloom quando mi mette la maschera sul viso canta. Quindi era una bambola stupenda, secondo me. Che io ho provato a cercare, ma si trova veramente solo a dei prezzi assurdi. Quindi, insomma, per ora non l'ho presa. Allora. Questo video è durato un sacco. Però mi sembra che il magazine l'abbiamo visto abbastanza bene. Ditemi che cosa ne pensate del magazine. Che io adoro. Veramente che si guarda delle pixie. Mi piacciono tantissimo. Ditemi che cosa ne pensate voi. E se avevate questo magazine, se vi piaceva. E soprattutto iscrivetevi al canale. Lasciate un commento e un like al video se vi è piaciuto. Io personalmente apprezzo tantissimo questi magazine. E secondo me, per essere la versione piccola, diciamo, di quelli di Winx, non sfigurevano. Perché comunque avevano tante pagine. Molto più, cioè... Dal mio punto di vista, molto meglio. Questa rivista qua è delle riviste di ora. Di Winx magazine. Cioè, questi qua non li fanno più. Ma se facessero le Winx magazine come fanno questo, sarebbe veramente stupendo. A mio parere. Però, insomma, ditemi che cosa ne pensate. E se tornereste o no a questi magazine. Anche se sono un pochino più piccoli di quelli di Winx. Dell'epoca. Però erano stupendi, secondo me. Infatti penso che costassero anche un filino meno. O uguale. No, forse è proprio uguale. Mi sembra che costavano lì su 4,90. Anche quelli di Winx. Però... Va bene. Ditemi che cosa ne pensate. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!